Si è cacciato nei guai per bancarotta fraudolente, rimediando gli arresti domiciliari Alessandro Massa, imprenditore tarantino, titolare dell'azienda DEMA, impegnata nel settore della carpenteria metallica con sede a San Giorgio Ionico, dichiarata fallita nel 2007 presso il Tribunale di Taranto. E' allora che sono scattate le indagini della Guardia di Finanza, se ne sono occupati gli uomini del nucleo di polizia tributaria coordinati dal Maggiore Giuseppe Micelli, indagini che hanno portato a scoprire il reato che ammonta in termini economici ad oltre un milione di euro di danno patrimoniale tra crediti più o meno documentabili, riscossi dalla ditta e beni materiali. L'arresto è scattato nelle prime ore del mattino su disposizione del jeep patrizzato disco. Nel particolare le fiamme gialle hanno accertato che l'imprenditore ha trattenuto un consistente di cassa per circa 35.000 euro, attrezzature macchinari e arredi per un valore di circa 115.000 euro e, come si diceva, somme derivanti dall'incasso di crediti dei clienti per 850.000 euro. Nel corso delle indagini è emerso inoltre che successivamente al fallimento della DEMA, nell'arco, cioè degli ultimi sei anni, l'uomo ha messo su altre due società coinvolgendo anche familiari nella gestione delle stesse. Per una il 50% dell'attività era affidata alla madre, l'altra invece ha visto spuntare il nome della convivente e dell'imprenditore, per il quale alla fine è stato disposto l'arresto ai domiciliari.